Un'azienda senza il direttore generale è un po' come una squadra senza allenatore. Per questo la nomina di un nuovo DG ad Etra, approvata sia dal Consiglio di Gestione che dal Consiglio di Sorveglianza, va ad occupare una fondamentale casella mancante nella multi-utility. Il nome è quello di Alberto Piero Bon, lungo cursus honorum nell'amministrazione di aziende legate al pubblico e una notevole esperienza in campo ambientale, fino ad arrivare all'incarico coperto attualmente che è quello di Assessore regionale all'energia in Sicilia. Si è trattata di una selezione pubblica che ha visto Piero Bon prevalere sugli altri candidati e la delibera è arrivata all'unanimità. A questo punto resta però il passaggio formale della citazione perché ovviamente il nuovo direttore generale non potrà restare nel ruolo di Assessore. Si conclude quindi una vacanza di ruolo determinante in un periodo che vedrà importanti scelte societarie a cominciare dall'opzione in campo per la fusione con Ava in primo piano.